Comunicazione di servizio, buongiorno. Allora, mi trovo a Roma, anzi ad Ardea. Sono arrivata ieri. Per la fretta ero in mattina, siccome sono stata malissimo. La notte, avete visto il video in cui, quello che si chiama Sto Molto Bene, una notte di inferno. Al mattino ho fatto la valigia di fretta e furia, stavo perdendo il treno. Ho lasciato il telefonino in carica, attaccato a bordighera. Quindi fino a giovedì, quando tornerò, perché venerdì ho un intervento ai denti, non avrò il telefonino, il 351, il mio numero ufficiale, insomma, che ha preso il posto del 347. Sono stata in pronto soccorso perché la caduta del 18, quando ho volato, si è rivelata molto più seria del previsto. Nel senso che il ginocchio sinistro ha un versamento che sarà poi da ricontrollare perché finché c'è versamento non si può stabilire che danno abbia. Tra l'altro su questo ginocchio ero già caduto a mesi fa, per colpa di Ligliana, tra l'altro, ho aperto e chiuso a parentesi, ma lasciamo perdere. Il ginocchio destro era tanto che mi mancava il soffitto, vero? Il ginocchio destro presenta un'atomefazione, ma fondamentalmente un taglio, che non so neanche come ho fatto a farmi perché io ho praticamente volato, sono volata, e sono atterrata su ginocchi e braccia. Sul braccio destro ho un taglio, sul ginocchio destro un taglio, ma non so come sia possibile perché sono atterrata sul pavimento, non c'erano superficie taglienti. Quello che preoccupa è la gamba sinistra perché potrebbe essersi prodotto uno strappo del legamento. Fratture no perché non risultano, anche se quando c'è edema e liquido non si può essere sicuri che non ci siano fratture. Però da due o tre giorni la caduta è del 18 marzo, se non sbaglio. La parte è completamente livida, gonfia, tumefatta e si vede proprio il liquido, diciamo la zona gonfia di liquido sotto cute. Quindi in questo momento sono ripetibili soltanto via whatsapp sul numero wind, che molti di voi hanno. Però chi volesse averlo non c'è problema, mi manda una mail a claudia dolce chiocciola gmail.com perché oggi se riesco a camminare, perché davvero non pensavo, pensavo che fosse andata così senza conseguenze, ma soprattutto la gamba sinistra è un disastro. Però finché non si riassorbe l'edema, adesso dovrò prendere altre medicine, perché figuriamoci. e bromelina per aiutare, bromelina, serrazio peptidasi, arnica, un prodotto che contiene tutte queste cose per far riassorbire l'edema. E valutare quale sia stato il danno, perché sicuramente un danno c'è, molto probabilmente a livello dei legamenti o dei tendini e non a livello osseo. Quindi, chi provasse a cercarmi sul telefono 351 o sul whatsapp del 351, sta a bordighiera spento il telefono. E chi volesse contattarmi su whatsapp, intanto che risolvo la situazione, mi può mandare una mail, clodiadolcechiocciolagmail.com, mando il numero, non c'è problema. Tanto questa è solo una scheda dati, probabilmente farò un'altra scheda Eliade per questi giorni, non lo so, anche perché questo telefonino è vecchissimo e fa faticare a leggere anche whatsapp. Io vi mando un grosso abbraccio, sta notte dormito, ma con una stanchezza mortale, e un dolore alla gamba, poi pare che ci sia un'altra ondata di influenza, non lo so se sia influenza, perché obiettivamente in Liguria il tempo è stato... io odio quando mi lamento così, perché sembro un'ipocondriaca, cosa che non sono. Io voglio star bene e adoro i pochi momenti in cui sto bene, però purtroppo quando cronicamente, diciamo, lo stato di salute crolla, basta una piccola cosa per smontare quell'equilibrio che ti costruisci. Quindi, ringraziando il cielo, ieri sono arrivata a Roma, gran dolore di gamba, mal di gola molto ridotto, però in serata, tardi, è salita la febbre, che adesso non ho. Ma si tratta sicuramente o di una tonsillite o di uno di questi virus influenzali o pane influenzali, non lo so, fatto sta che sto una merda. Vi chiedo scusa se ogni tanto parto con queste cronache del lazzaretto, però la realtà è questa. Quindi, vi volevo avvisare di questa cosa e ci sentiamo il prima possibile, ok? Sono molto fiacca, ripeto, sto noto dormito, ma con questo dolore fortissimo al ginocchio che si irradia a tutta la coscia e con una notevole difficoltà di movimento. Ora, tra qualche giorno, probabilmente quando torno a Bordighera, dovrò ripetere l'ecografia e l'ecocolordoppler e la radiografia RX per vedere che tipo di danno ci sia, sperando che non ci sia, ma qualcosa ai legamenti, qualcosa ai tendini, mi hanno detto che sicuramente c'è. E per il resto, questa è la gamba, questo è il ginocchio devastato, lo tengo così, tengo così la gamba perché mi dà sollevo. e niente ragazzi, vi mando un grande abbraccio e spero di aggiornarvi presto con notizie migliori. Chiedo anche scusa se parlo così, è sempre il piercing, quello che ho preso da Amazon quando ho perduto il mio della lingua durante una delle sedute dal dentista, ha la barretta lunghissima e me ne devo procurare un altro. Sto tenendo questo per non far chiudere il foro, però è veramente, cioè parlo, sembra che io abbia una patata in bocca e quindi insomma. Vi auguro una buona domenica, vi abbraccio tantissimo, metto questo video, spero, non so se me lo fa caricare perché sto telefonino è veramente vecchissimo, è un Lumi, è un Microsoft del 15-18, ci provo a caricarlo comunque. E vi auguro una giornata bellissima e vi voglio bene, un bacio anche da una nonna che è qua. Nabichi, amore, amore, Maria Sofichi, Maria Sofichi, quello è la struttura del letto che va portata via. Maria Sofichi, sii, ha fatto il viaggio in treno, lei è stanca. Gro.